L'opzione Esperto GPT ci permette di porre una domanda a un'intelligenza artificiale addestrata per cercare studi di ricerca, concentrandosi su un argomento specifico oltre i risultati standardizzati. Ad esempio, in questo momento, il nostro modello di intelligenza artificiale è addestrato per studi di laboratorio. Puoi inserire la tua domanda in fondo, specificando esattamente ciò che vuoi sapere, in modo specifico per questo esperto, dovremo porre domande su studi di laboratorio. Come esempio, puoi selezionare una qualsiasi delle domande predefinite. Chiediamole se possiamo prevedere l'acuità visiva dai dati di un banco ottico. Cliccando su Esegui domanda, il sistema restituirà le informazioni che abbiamo richiesto. Alla fine della risposta, avremo dei riferimenti a cui possiamo accedere, per consultare informazioni complete relative a questa risposta offerta dal nostro esperto.